A questo che scrive di nuovo Famiglia Adams, lo vado a prendere fisicamente. Attenzione a come li chiamate, loro sono i fratelli d'Italia, non la Famiglia Adams. La Famiglia Adams italiana, qualcuno li aveva simpaticamente soprannominati così. Ignazio Larussa nei panni del capofamiglia Gomez, Guido Crosetto in quelli del Maggiordomo Lurch e Giorgia Meloni in quelli della piccola Mercoledì. Un nomignolo che a loro pare non dispiacere più di tanto. Effettivamente ci sta però. E i resti della famiglia? Dove sono Mortissia e lo zio Pester? Mano invece sembrerebbe esserci.